Però ora siamo su Tevere con Luando Pianello, ispirato da queste acque che adesso sta cantando Ispirato da tutta la città, poi vedere Roma da questa posizione è una novità È una novità, non sei mai venuto? Ci sono venuto però era un po' di tempo che non ci venivo E qual è la sensazione che ti dà stare su Tevere? Sembra un'altra città, sembra... Magico? Sì, Roma per aria, una Roma che vola Che non senti i rumori, ma ci sono l'acqua, il rumore della barca È bello, è successivo, poi il Tevere, benché sporco, è bello, è bello per questo suo colore biondo Poi siamo qui a lungo Tevere Roma, è ospita questa l'intenzione bellissima per la festa della Musica Poi siamo in attesa di queste 21, io comincerò a cantare prima però 21 e 21, hai scelto tu questo orario? No, no, la scelta in Comune di Roma, siccome oggi è 21, 21 e 21 abbiamo fatto questa... Far cadere questa coincidenza che tutti quelli che sono iscritti a cantare e a suonare oggi Possano cantare una mia canzone a loro scelta E poi fai da padrino a tutti questi ragazzi oggi? Eh beh, certo, certo, questi devono crescere Ti piace questa cosa? Molto E voi ti prendono un po' d'esempio oggi, lo penso, no? Perchè, che prendono la parte buona, ovviamente Mi pare che è tutto buono C'è qualcosa in particolare che canterai questa sera o fai un po' d'esempio? Beh, farò tutte le mie canzoni più famose Forse farò un'anteprima, quella che presenterò domenica al mio concerto in Campidoglio E come si titola questo? Piano 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 È un invito a rallentare nella vita, a godersi le cose senza la verifetta Senza guardare l'orologio, controllare l'agenda Questo mi sembra un ottimo consiglio Poi qua, in questa connicia, è perfetto Grazie mille Grazie a voi Alle 21 e 21